Asia Argento dichiarazioni importanti sull'ex marito Morgan Morgan chiede aiuto all'ex moglie Asia Argento ha rilasciato importanti dichiarazioni su Morgan e la situazione che l'uomo lamenta da qualche tempo. Morgan ha problemi economici e in questi ultimi mesi ha motivato il tutto dando l'intera responsabilità a lei. Adesso però è arrivato a chiederle aiuto per uscirne fuori nel modo più pulito possibile. Asia Argento non saprebbe come fare per dargli una mano, ma a prescindere da questo non ne avrebbe nemmeno voglia e così ha replicato in modo duro agli ultimi avvenimenti. Giorno 5 Morgan dovrà lasciare la casa a causa di un'asta giudiziaria e ha chiesto a chi l'ha comprata a pochissimo di tornargliela indietro e lasciarlo vivere a casa sua. Secondo Asia Argento, il cantante ha perso tutto a causa delle innumerevoli scelte sbagliate fatte e non fatte. Non ha mai preso posizione e quando lo ha fatto ha sempre sbagliato. . Omette sempre di dire però che vendendolo a casa i soldi andranno alla loro figlia dato che l'uomo non le ha dato il mantenimento che le aspettava. . Asia Argento infuriata contro i giornalisti. . In questi giorni Asia Argento si è parecchio arrabbiata con i giornalisti che le stanno dietro e cercano di trovare il marcio in ogni suo gesto ed in ogni sua parola. . Tutto quello che scrive su Instagram diventa incredibilmente interessante pur essendo magari di poco conto. . . Questa situazione l'ha stancata anche perché quella che dovrebbe essere la sua vita privata è diventata la vita pubblica, la vita di tutti. . Ecco che ha risposto ai giornalisti in modo abbastanza deciso e determinato e sicuramente poco carino. . Li ha rimproverato dicendo che non ha più alcuna intenzione di dare delle risposte e che possono tranquillamente tenere per sé i propri punti interrogativi. . Per quanto riguarda la questione Morgan ha risposto sia ai giornalisti che su Instagram ma lo ha fatto soltanto una volta e non è stata per niente gentile o carina. . . Gli ha detto che quando finirà a dormire sui marciapiedi o sotto i ponti avrà sicuramente tanto tempo per riflettere sugli ori commessi. . E chissà che non riesca a scrivere anche un disco dopo 12 anni di fermo. . . Poi ha affondato il coltello con un attacco piuttosto cattivo con un riferimento alla droga. . . Ha affermato che magari adesso essendo a corto di denaro non avrà più la stessa possibilità di drogarsi e cambierà stile di vita. . 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